oggi trasfertona per il derby emilio romagnolo ci prospetta una partita molto interessante perché due squadre che vengono da due brutti momenti chissà se sarà una partita spettacolare come spesso accade siamo quasi arrivati al campo purtroppo c'è un traffico allarmante quindi siamo venuti a piedi pieno di pattuglie troppe vuol dire che c'è troppa gente era una partita divertente siamo entrati nello stadio un po in ritardo perché c'era fila un po in ritardo fuori la partita è già cominciata partita subito cortissima gran tifo no 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 ho visto il 96% di voi guardate i video non siete iscritti a canale solo il 4% si iscrive come staccato no sta palla Già da un po' che sta andando avanti il secondo tempo Partita molto molto equilibrata E un po' troppo perché vorrei un gollettino Adesso qua davanti a noi Che giocata, che giocata, che gran giocata Vediamo adesso però se lo mette il rigore Andiamo! 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 And Assegnato Militatamente Claudio Morra Quanto è forte Militatamente Mi sa che è il sesto gol quest'anno Sesto gol in stagione Questo è buono Dopo il gol Sta attaccando di più la spalla Si è svegliata un po' la spalla Si però Non ce la fanno Per ora non ce la fanno Ti rimporta Male Uno forse Però attacca Non ce la fanno La partita La partita è finita Vincere Rimini 1-0 Vittoria meritata Giustissima Vittoria giusta Poteva finire anche 2-3-0 Non toglieva niente a nessuno Si potevano aspettare di più da una spalla Irriconoscibile Niente Il video è finito Iscrivetevi mi raccomando Ci vediamo alla prossima Ciao